ciao ragazzi e bentornati qui nella cucina per tutti oggi andremo a realizzare una video ricetta per lo più un tutorial molto semplice e molto veloce perché molti di voi mi hanno chiesto fabio ci fai vedere come preparare lo sciroppo di glucosio? molto volentieri anche perché spesso nelle ricette di pasticceria come per esempio per la realizzazione della ganache che va a ricoprire i profiterolle viene chiesto di mettere proprio lo sciroppo di glucosio oggi vi faccio vedere come prepararlo vedrete che come ho detto prima la realizzazione è molto semplice e molto veloce quindi se siamo curiosi di vedere come realizzarlo prendete nota perché questo è un tutorial e mettiamoci a lavoro perché i fornelli ci aspettano ebbene sì ci serviranno solo questi tre ingredienti ovvero 52 g d'acqua mi raccomando rispettate le proporzioni 120 g di zucchero semolato e 5 g di succo di limone mettiamoci subito a lavoro mi sono trasferito sui fornelli ho preparato un pentolino vado a mettere lo zucchero il succo di limone ed infine l'acqua accendiamo ora il fuoco e il consiglio che vi do è quello di tenerlo al minimo mescoliamo per bene affinché lo zucchero vada a sciogliersi nell'acqua e parliamo un po della parte tecnica allora in teoria se avete un termometro a disposizione vi consiglio di far arrivare lo sciroppo a 103 gradi se non avete invece il termometro potete fare come faccio io in questo momento così vi facilito anche il procedimento una volta che arriva a bollore contate fino a 30 e vedrete che si sarà ben cristallizzato vedrete che bollirà e quindi lo sciroppo è pronto è importante che continuiamo sempre a mescolare così non si attaccherà nulla proprio sul fondo del pentolino ci siamo ragazzi spengo il fuoco e il nostro sciroppo è pronto ha cambiato appena appena colore però ancora non si è addensato beh ovviamente perché è ancora caldo per favorire il raffreddamento ho preparato un bicchiere e dal pentolino vado a trasferire lo sciroppo di glucosio lo lasciamo raffreddare e poi possiamo utilizzarlo per i nostri dolci tenete conto che potete anche metterlo in un vasetto ma io essendo che dovrò andare a fare un dolce l'ho messo proprio qui nel bicchiere l'abbiamo lasciato riposare per circa un'oretta qui nel bicchiere e potete sceglierlo se conservarlo in frigorifero magari in un vasetto se non lo utilizzate molto oppure qui nel bicchiere come faccio io perché nella prossima video ricetta quindi mi raccomando seguitemi andremo a realizzare i profiterol e questo ci servirà proprio come vi dicevo prima per fare la ganache quindi mi raccomando attivate la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi sulla mia pagina instagram da chef fabio da questo sciroppo di glucosio e dalla cucina per tutti ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao